Ciao amici, oggi parliamo di un problema diffuso ovvero l'insonnia e di come arginarlo con le scelte alimentari di ogni giorno e di ogni sera. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. L'insonnia è un problema complesso e va affrontato con la dovuta attenzione, può essere causata da molti fattori tra cui stress o dal cellulare usato tardi alla sera. Anche le abitudini alimentari influiscono sulla qualità del nostro sonno, ad esempio una cena e una digestione pesante sono nemiche del buon sonno. Ma quali sono i cibi da evitare prima di dormire? Ottima domanda, oggi ne vediamo 5. 1. Cibi acidi e piccanti, pepe e peperoncino possono causare reflusso gastrico e bruciore di notte. 2. Cibi grassi, cibi come salumi, formaggi, hamburger, patatine fritte appesantiscono lo stomaco. 3. Alcol, l'alcol disturba la fase REM, la più rigenerante e profonda del sonno. Perché quando beviamo alcol abbiamo l'impressione di avere più sonno ma poi il giorno dopo ci sentiamo stanchi come se non avessimo dormito bene? Questo è uno degli effetti dell'alcol. L'alcol infatti aumenta l'adrenosina, una sostanza che prima favorisce il sonno ma poi lo disturba. 4. Caffeina, la caffeina altera il riposo e non andrebbe assunta per 5 o 6 ore prima di dormire. È contenuta nel caffè, nel tè, nel cioccolato fondente e nelle bevande energetiche. 5. Zucchero, anche lo zucchero e i cibi zuccherati influiscono negativamente sul sonno perché alterano la glicemia e costringono il corpo a lavorare per riequilibrarsi. Avete visto amici che si può favorire il sonno evitando alcuni alimenti alla sera? Per vedere tanti altri video sui migliori alimenti per la salute e la forma fisica è facile. Iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale. Avere cura del sonno è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio!